Buonasera a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Fumetti belli in modo assurdo. Partiamo da una serie anime che ci ha ispirato, che ha ispirato Ivan, nella scelta dei fumetti. Questa puntata si intitola Tre demoni potentissimi come Anna. Anna la vedete nello sfondo. L'anime di cui parliamo questa sera, prima di passare i fumetti, è My Demon del 2023. Un anime recentissimo, con una grafica incredibile. La storia è di Hirotaka Adaki, ed è una serie in esclusiva per Netflix. È un anime di fantasia, fantascienza, ambientato sulla Terra in una dimensione post-apocalittica, quando l'esplosione della bomba atomica ha causato la fusione di inferno e terra. Quindi gli esseri umani, i sopravvissuti, sono costretti a vivere, a convivere con delle creature mostruose, che chiamano demoni. Questi demoni si cibano anche di loro, quindi sono molto pericolosi. Questi demoni vengono uccisi, discriminati e sterminati. Vengono anche utilizzati dagli esseri umani, manovrati contro la loro volontà, attraverso un apparecchio fissato sulla testa che egli trasmette delle scariche elettriche, per portare a termine la missione, ossia uccidere, sperimentare su questi demoni. Quindi fare anche delle ricerche scientifiche, delle vivi sezioni. Il protagonista è un ragazzino delle elementari, che si chiama Kento. Vive da solo con la sua mamma. Lui è molto particolare perché una gemma, una cellula di un demon, gli si è impiantata nell'occhio quando era molto piccolo, e pian piano sta crescendo sulla sua testa. A differenza degli altri bambini, ma a differenza degli altri esseri umani, Kento ha una passione smodata per i demon, li vede come delle creature bellissime, anche se sono mostruosi. E ad un certo punto deve fare una ricerca per la scuola, trova un piccolo demon, proprio piccolino appena formato, piccolissimo, una gemmina, se la porta a casa, lo cura, lo cresce. E diventa una specie di cagnonino mostruoso, che fa un verso, Anna! E lo chiama appunto Anna. E diventa il suo animaletto domestico, lui lo porta a scuola e è orgogliosissimo di Anna, la trova bellissima. E vorrebbe che tutti al mondo vedessero la sua bellezza, un amore per questo animaletto e un affetto addirittura esagerato, sdolcinato a livelli incredibili. Dato che i demoni vengono cacciati, perseguitati e sterminati per il benessere degli esseri umani, che li trovano anche ributtanti, che cosa succede? Questo ragazzino viene segnalato come possessore illegale di un demon, perché esistono degli esseri umani che possiedono dei demon, quelli che li manovrano, e si chiamano demon user, e sono praticamente autorizzati dal governo. Lui invece ha un suo animaletto domestico illegale, che tra l'altro ha dei poteri particolarissimi, Anna. Ogni demon ha dei poteri particolarissimi, ma adesso ne parleremo. Comunque, in sostanza, questo bambino inizia a essere segnalato, perseguitato. Si verificano spiacevoli circostanze in cui la mamma, per difenderlo, perde la vita. Il suo unico genitore. Che cosa fa Anna? Anna è un demone particolare, un demone immagazzinatore. Riesce a tenerla dentro di sé, a praticamente conservare il suo cadavere, senza che si alteri, e parte con il suo padroncino alla ricerca di un particolare demon, che ha, a quanto pare, la capacità di portare indietro il tempo. Lui vuole salvare la sua mamma. Lui vuole tornare al momento in cui possa salvare la mamma. Lui è un bambino delle elementari, ragazzi, quindi ha al massimo dieci anni. E si trova da solo a dover attraversare il Giappone insieme ad Anna. È cacciato, inseguito. La storia, come vedete, parte intorno a un mondo ostile. È un mondo ostile. È commovente. Fa piangere. Ti fa riflettere sulla discriminazione. È molto timbartoniano. Ti farai innamorare... Ti farai innamorare... di un demone in particolare, forse più di uno, ma in quello... Vi posso dire, minimo spoiler, secondo episodio, mi sono innamorato di un demone ma selvaggiamente. Ma non perché fosse bello. No. Non perché... Perché questo demone è scravizzato, dovendo lavorare per il suo padrone e tutto, lo vedi che raccoglie dei fiorellini in un prato e li porta al suo padrone e il suo padrone li butta via. E questo demone, che non ha occhi perché è una cosa brutta, lo vedi che ci rimane male e non ha espressività a questo mostro. E poi tu vedi che lui ci è rimasto male con il suo verso e tutto, tu ti rendi conto che... Io l'ho fatto perché ti voglio bene. No, non devi farlo. E nonostante fosse maltrattato, questo particolare demone amava incondizionatamente il suo padrone. Mentre molti altri, proprio perché sfruttati, torturati, se viziati, diventano poi aggressivi, a volte si ribellano e i loro demon user addirittura li sbranano. Ma questo perché? Perché gli esseri umani sono cattivi con loro. Per questo, dicevo, è molto Tim Burtoniana come serie. Anche nella grafica, a Netflix series e nel titolo My Demon, c'è la spirale che è un, diciamo, un marchio di fabbrica di Tim Burton. L'idea è che i mostri siano coloratissimi e molto più interessanti degli esseri umani, comunque delle persone banali e molto Tim Burtoniana questa cosa. E ritroverete anche... Io ci ho rivisto anche un po' di Tokyo Ghoul perché questo ragazzino è a metà strada tra i demoni e gli esseri umani. E non capisce perché gli esseri umani non apprezzino la bellezza e la purezza di queste creature mostruose che di fatto non sono cattive. Semplicemente sono maltrattate, sono uccise crudelmente, sono torturate. Ci saranno degli episodi che vi faranno capire... Ci saranno dei demoni perché c'è un pochino il mostro della settimana per quanto sono solo 13 episodi che tu ti chiedi ma perché ci comportiamo così come umani? Perché dobbiamo essere così... che non dobbiamo accettare nulla? Ed è un po' il tema ma l'accettazione è diversa un po' il tema della serie. Che è un tipico tema giapponese perché il confronto tra le razze le razze che sono a metà il miscuglio tra le razze non è visto benissimo però negli anime spesso si parla di questo si parla del fatto che chi è a metà tra due razze in questo caso la razza umana la razza dei demoni in realtà sia discriminato ma come anche in Tokyo Ghoul il protagonista che è in Kaneki alla fine si rivedeva molto di più nei ghoul che negli esseri umani così questo bambino ha quasi più simpatia e amore per i demoni e farà di tutto per far capire agli altri che non sono cattivi che sono esseri meravigliosi anche bellissimi nonostante siano bruttini alcuni la stessa Anna è bruttina ma la stessa Anna è brutta è bruttina però te la pensi ad Anna vuoi bene ad Anna vuoi bene ma vuoi bene a tutti i demoni poi questo bambino è talmente innamorato della sua Anna che quando prima di andare a dormire l'abbraccia e le dice oggi ho composto per te una canzone si intitola ti voglio bene Anna ho aperto un blog con la tua fan page dice delle robe esageratissime direi quadri dove tu sei la più bella vuole bene al suo cucciolo e questo cucciolo lo ama ed è l'unico demon che ascolta il suo padrone senza essere comandato o comunque gestito con l'elettroshock questo ragazzino incontra tante persone qualcuno lo aiuterà ma molti cercheranno di portargli via Anna perché Anna è un particolare demon che guarda caso vogliono studiare quindi lui non solo ha perso la sua mamma Anna contiene la sua mamma e cercano di strappargli via l'unico suo affetto rimasto quindi ti strappa anche il cuore questo anime ha dei momenti abbastanza mai una gioia come piace a noi come piace soprattutto a te sono solo sono sbagliati sono tipo 13 episodi è brevissimo sono 13 episodi e ragazzi questa serie ve lo diciamo un po' io quando ho visto il trailer è totalmente computer grafica questa serie totalmente ma si vede ma per la prima volta da quello che ho letto facendo poi delle ricerche non hanno voluto creare una computer grafica che mirasse al realismo dei personaggi hanno voluto fare una computer grafica che si rifà alle vecchie serie di animazione a disegno a matita cerca di avvicinarsi il risultato è un po' strano inizialmente ma chiedetemi non è brutto ho visto cose iper realistiche in computer grafica che davano un senso di alcani valli terribile che tu guardi qui no qui non ti succede no perché non vuole essere realistica vuole essere un disegno e fatto al computer esatto è molto diverso come stile rispetto agli anni che alcuni classici sì non mi è dispiaciuto assolutamente anzi tutt'altro poi i 13 episodi sono volati l'abbiamo visto in due giorni se non mi sbaglio questo ci sono sbranati subito perché era bello bellissimo era oggettivamente una bella serie e quando finisce vuoi dare l'episodio dopo perché come va va come fa ad andare avanti amerete tutti i mostri molto più degli esseri umani tutti i demon sì e che dire eh al di là del disegno che sconcerta un po' perché uno si aspetta un anime giapponese solo aspetta disegnato in un certo modo questa è una via di mezzo tra stile occidentale e orientale però la rimazione è spettacolare ci sono dei colori ci sono delle scene è veramente di un livello altissimo e la storia è bellissima forse diceva Ivan prima di iniziare la live faranno stanno pensando in una seconda stagione io spero che termini qui perché secondo me il finale è perfetto e un'altra cosa questi demon vi ricorderanno tantissimo degli altri animoletti mi sembreranno dei pokemon ragazzi mi sembreranno dei pokemon un po' bruttini i demon parlano dicendo solo il loro nome sì ognuno di loro ha un potere diverso lui è innamorato del suo pokemon mi ricorda un po' Ash diciamo che come si chiama il bambino non mi ricordo si chiama Kento Kento è mille volte più intelligenti Ash ragazzi chiedetemi di tanto e ha molto molto cuore molto cuore è molto è anche più sfortunato questo questo bambino perché perché non possiamo dirvi altro no possiamo dirvi che è andato è un bel viaggio è il viaggio dell'eroe ma senza l'eroe questa volta perché lui Kento è il protagonista ma non gira tutto intorno a lui e non gira tutto intorno ad Anna anche il metodo sta parlando è più delicato di Ash è bello è uscito da poco andatelo a vedere non vi fate influenzare dal pregiudizio a ma non ha lo stile grafico tipico degli anime perché anche io preferisco una certa estetica ma abbiamo visto insieme il trailer già dal trailer abbiamo visto quanto è spettacolare l'animazione e la storia merita vi entra vi entra dentro vi ricorderete certi mostri che a differenza dei pokemon sono veramente bruttini questi demon sappiate ma gli amerete praticamente tutti c'è un ragnone collezionista che è fantastico il ragnone è bellissimo c'è un ragnone gigante che colleziona cose e adora le sue cose e le tiene e le tiene con cura sapete che io non mi ricordo i nomi neanche per sbaglio di dei demon mi ricordo il nome mi ricordo come sono fatti e Linda ha visto che a un certo punto diceva i nomi dei demon perché mi erano piaciuti come erano stati caratterizzati e ste creature dicono solo il loro nome esatto non sanno dire altro vi ricorderete molto molto più di Anna vi ricorderete molto più di Baron di Casper di altri demon che non del nome dello stesso protagonista Anna vi entrerà nel cuore perché Anna è incredibile ed è potentissima per questo la puntata si intitola tre demoni potentissimi come Anna e anticipa i fumetti di cui parlerà tra poco Ivan adesso tra poco ti posso dire Anna oggettivamente tu lo vedi è sto cagnetto con tantissimi occhi dovrebbe essere brutto dovrebbe essere strano no è amore è solo amore guardi sei bellissima che lui la guarda innamorata le dice Anna sei bellissima questi occhi che hanno un riflesso quasi arcobaleno il corpo pieno di occhi ma sembra che non abbia peluria quindi immaginatevi il cagnolino di Tim Burton senza pelo ricoperto di occhi una cosa brutta una cosa bruttina veramente bruttina ma lui la guarda Anna sei bellissima vorrei che tutti sapessero quanto sei bella gli dice delle robe proprio smielate ma tanto ragazzi ma tanto però si capisce quanto amore c'è il valore dell'amicizia e il fatto che la bellezza sia relativa e soprattutto che il diverso non deve essere maltrattato ci si può dialogare con il diverso non bisogna discriminarlo non è per forza il nemico non è per forza il cattivo non è per forza il brutto dai passiamo codici passiamo i fumetti passiamo i fumetti adesso lascerò parlare Ivan questi sono i tre demoni potentissimi che ha scelto iniziamo con il primo intanto devi fare le leggi e citazioni Master Pandemonium il tuo passato è la tua storia è oscurità e caos qualunque sia il tuo regalo il consiglio di Pandemonium è accettalo è una minaccia Master Pandemonium è un bel passaggio creato da Stephen Egbert Steve Engbert e Al Milgron nel 1986 sulla serie I Vendicatori della Costa Ovest quindi parliamo di un personaggio della Marvel lui era un attore cinematografico che per colpa di si chiama Martin Princeton per colpa di un incidente stradale perde un braccio non accettando questa sua perdita non accettando il fatto di non poter più recitare perché in quel modo non lo avrebbe più preso decide di fare un patto con Satana al suo patto però non risponde Satana risponde Mephisto Mephisto accetta il patto di Preston ma invece di irritargli il braccio le porta via gli altri tre arti e li sostituisce con demoni gli fa un buco nella pancia come si vede nell'immagine in realtà manca una parte ce l'ha già un buco nella pancia a forma di stella a cui all'interno vanno inseriti cinque pezzi della sua anima che è stata sparpagliata Master Pandemonium diventa un Valiant e inizia a cercare queste parti del suo corpo le trova diverse in diversi demoni combatte contro la cosa combatte contro tanti personaggi ma la parte importante del suo potere e ciò che fa avrà un peso centrale su tutto il resto dell'universo Marvel perché lui trova Thomas e William i due figli di Scarlett Witch e Visione che Visione è una data è un sintetizzoide non è un essere umano non può avere figli i figli sono stati portati in vita dalla magia di Scarlett Wanda Maximoff e questi due bambini in realtà sono due parti dell'anima di Pandemonium lui li prende se li rinto se li recupera recupera due frammenti della sua anima ma da quel momento Wanda diventerà folle inizierà la follia di Wanda che porterà alla distruzione di praticamente tutto l'universo Marvel e alla famosa frase basta mutanti è diciamo è un personaggio che nei Vendicatori della Costa Obest è un personaggio simpatico è un demone estremamente potente tanto è apparso anche nella serie Modok ma la scelta di fargli distruggere i figli di Wanda e dare inizio alla follia di Scarlett è grandiosa è un personaggio che poteva non essere nulla e invece è diventato tutto e con lui andiamo abbastanza in fretta perché in realtà c'è poco da dire in realtà people spoiler ricollegandoci alla serie anime My Demon ci sarà incontrerete un demone che si chiama appunto Pandemonium sì e forse un potentino anche lui ma non lo so vedremo lui vedrete non è il demone più potente della Marvel ma non so perché non vi ho voluto mettere Mephisto o altri demoni Blackheart o altre Satana stesso perché era troppo facile ho voluto cercarvi un personaggio meno ricordato però sempre potente ragazzi andiamo a quello dopo quello simpatico questo è famoso un pochettino di più secondo me secondo me non lo conosce nessuno dici non hai intenzione di fare un patto con un diavolo come te parola di Akira Fudo le ultime parole famose come si suol dire non accettano le frasi in realtà non era rivolta da Amon ma era rivolta a Satana Amon è il demone che prende possesso del corpo di Akira Fudo ma la purezza d'anima di Akira riesce a mantenere Amon sotto controllo è il demone più potente degli inferi il demone più potente degli inferi mi sono perso un attimo ragazzi tenuto sotto controllo a un certo punto della serie di Devilman verso il finale Amon riesce a prendere possesso a ricacciare indietro Akira e diventare totalmente Amon e scatelare la sua furia uccidendo demoni umani non c'è differenza da Koyo Koyo ed è arrabbiato con Satana tantissimo perché Satana ha bloccato all'interno di quel corpo e lui non vuole stare all'interno di quel corpo nell'OAV dedicata a Devilman Amon all'apocalisse di Devilman cioè questa storia arriva uguale fino a questo punto dove all'interno a un certo punto si vede all'interno della mente del corpo di Akira uno scontro fra Amon e Akira stesso come Devilman e viene vinto da Akira che inizia a prendere quando viene citata come si chiama lei non è Maya Mickey quando viene citata Mickey Akira impazzisce e inizia a massacrare di pugni Amon e riprende possesso del suo corpo prendendo fortemente a pugni Amon nella miniserie a fumetti tra l'altro splendida non è né scritta né disegnata a Gonagai ma è disegnata non mi ricordo dell'autore chi sia scusatemi questo lapso spruidiano la storia è diversa Akira non ha nessun potere contro Amon chi notami il risveglio di Amon avviene perché si mette in mezzo Satana Satana picchia Amon riprecupera il corpo di Akira e per riportarlo ridare il potere Satana bacia con amore Akira e da quel punto inizia un lunghissimo flashback ambientato nella preistoria con il nostro Amon che combatte conosce le siren è una razza intera non è un'arpia di siren sono un'intera razza e sono delle combattenti fantastiche ma di questa parte della storia non voglio raccontarvi sappiate che Amon ha avuto un'importanza nella storia ed è un personaggio il più potente dei demoni viene considerato di tua pari Satana ma lui avrà verrà per colpa di Satana rinchiuso all'interno di Akira e Akira da semplice umano si rivelerà più potente di un demone a parte per il braccio di Satana che è libero che lo vincola di nuovo come vedete è così dolce tu Alinda come lo trovi? sembra carino e coccoloso è carino e coccoloso soprattutto è simpatico ed è facile chiacchierarci insieme ah immagino e siamo al terzo e ultimo così andiamo passiamo al terzo e ultimo che questo simpaticone qui questo è il demone trega in questa casa piomba e per Felix Faust costruisce una tomba e là ok sto cercando allora Jason Jason Blood è il vero nome del demone è il nome del corpo ospite di Etrigan il demone Etrigan è considerato uno dei personaggi più potenti della DC Comics adesso vi diciamo due note poi vi raccontiamo un po' la sua storia è forte quanto Superman la sua conoscenza della magia non ha non ha uguali punto a fuoco infernale l'unica cosa è debole verso l'acciaio perché un demone è verso l'acciaio e verso alcuni tipi di benedizione è debole il quiz che abbiamo fatto prima che ci troviamo perché Jack Kirby si è ispirato a il principe Valiant perché in una sequenza di storie del principe Valiant di Harold Foster un personaggio importantissimo nella storia del fumetto il principe Valiant fa un finto di essere un demone mettendosi in testa un oca un oca morta girata al contrario infatti le orecchie di demon in teoria sono due ali di un oca e lui aveva questa pelle gialla perché l'oca era ribaltata con il grasso d'oca e Jack Kirby vedendo queste tavole amando quella storia del personaggio decide di omaggiarlo con l'estetica rendendo Etrigan questa estetica donandogli questa estetica presa da Harold Foster lo stesso Harold Foster fu contento ragazzi di questa situazione perché è ancora in vita l'uscita del personaggio che è uscito nel 72 e invece raccontandovi semplicemente la storia di Etrigan Jason Blood è un cavaliere di Rartu che viene legato dal buon mago Merlino che è figlio di Belial un demone ed è il fratellasto di Merlino scusate ho fatto casino Jason Blood viene legato ad Etrigan che è figlio di Belial e Belial è il fratellasto di Merlino perché sia Belial che Merlino secondo le leggende Arturiane sono figli di Satana lo so che Merlino potrebbe essere uno shock per molti di voi ma si è un figlio di Satana dicono anche altre cose di Merlino ma non lo diremo qui e Jason con questo patto diventa un essere umano molto più potente immortale e con un'ottima conoscenza della magia viene nei tempi moderni perché più abituati di Etrigan sono ai tempi di Merlino contro Morgana e Lefei riescono a sconfiggere penso di aver sconfitto Morgana e Lefei passano qualche mille qualche secolo Jason Blood agli tre giorni nostri è un demonologo famosissimo e lavora a Gotham City ma viene portato da una sua fidanzata a tornare in Scozia perché Merlino lo convoca e venendo convocato a Merlino viene riportato in vita viene ricollegato a Etrigan che non l'ha mai lasciato ma era secolo che non appariva e Morgana Lefei è ancora viva e sta tornando il personaggio di Etrigan parla in rima parla sempre in rima è divertentissimo è un po' un personaggio strano ma dato che Etrigan è stato anche scritto da Alan Moore per un certo periodo Alan Moore sapete che non fa le cose facili non lo fa parlare in rima lo fa parlare in pentametri gambici ovvero lo stile di Shakespeare lo stile della posa di Shakespeare quindi ci sono delle storie in cui Etrigan il demone parla in pentametri gambici che da l'altro non solo di Shakespeare ma anche di Milton e altri celebri poteri celebri poeti inglesi quindi immaginate l'amore che c'è per questo personaggio e ancora oggi ha avuto diverse miniserie ma Etrigan è sempre conclusionato un personaggio di punta da DC per quanto non appaia tantissimo è stato scritto la miniserie più importante di Etrigan è scritta da Matt Wagner l'autore di Grendel si trova abbastanza facilmente in realtà mi sembra sia 96 pagine verrei pubblicata poco e poi esiste una miniserie di Damon scritta da Gartenix dove in questa miniserie fa il suo esordio Hitman il killer il cecchino malavitoso della DC Comics con i superpoteri e questa è una nota margine che mi dovrei giocare per quando parleremo di Hitman ma ci giochiamo qui la prima apparizione di Hitman alla sua prima apparizione in un fumetto DC Hitman guarda Batman si trova davanti Batman lo guarda e gli vomita sui piedi perché è completamente ubriaco e ci sono delle cose veramente divertenti ecco anche con Daemon e Hitman ragazzi allora vi sconsiglio la serie di Jack Kirby 16 numeri è un po' pesantucce Jack Kirby mi piace ma con Hitman poi Jack Kirby era un po' deluso perché per Daemon aveva dovuto rinunciare al quarto mondo la miniserie le sue serie alla DC che non vendevano abbastanza allora dice facci un demone lui l'ha fatto ma non era contentissimo in realtà ripreso il personaggio poi piacque molto e però la miniserie di Wagner che si titola Daemon semplicemente ve la consiglio vivamente perché riracconta le origini ma le modernizza ed è un racconto fine anni 80 i primi anni 90 di una fluidità rara diciamo che possiamo metterlo vicino ai primi Sandman di Neil Gaiman come racconto è un qualcosa di molto particolare avvicino al blazer tante storie della DC della vertigo e ha veramente tanto da dare tu Linda lo leggeresti se sei interessato a un personaggio così demoniaco ma a me i demoni piacciono mi fanno sempre simpatia i cattivi quelli della fantasia mi piacciono sempre quelli veri no ma lui non è un cattivo più un demon i cattivi o i mostri anche buoni o o quelli che sia non mi piacciono tantissimo poi guarda che belle mostri e ciattola veramente un figo ho un suo perché ho un suo perché tu stavo pensando repentamenti gambici di Alan Moore che io l'ho letto quando ho letto Swampsting che parla qualcosa di delirante in quel momento ma sono problemi io direi che con i tre demoni abbiamo allora nei tre demoni Paddemonium è potente ma è un po' così ma Amon e Demon sono davvero potentissimi ma rispetto ad Anna come si classificano ad Anna di My Demon forse Anna è più potente di loro secondo me si perché Demon è potente e pare Superman però il potere di Anna potrebbe fregarlo secondo me si eh si potrebbe potrebbe vincere il cagnolino tutt'occhi sì potrebbe vincere di My Demon scusate vabbè con questo abbiamo concluso con questo concludiamo scusate stavo tossendo stavo merendo con questo direi che possiamo concludere i tre personaggi tre demoni e tornare a salutarvi e ci vediamo la prossima volta io un giorno imparerò delle lingue note di più esatto grazie mille grazie a tutti